Salve amiche e amici, sono qua le 19.09, la devono essere le 23.09 e quindi vi annuncio e vi proclamo che inizia una nuova trasmissione di radio San Ten Chan. Grazie, grazie a tutte e tutti voi che mi seguite, sono aumentati il numero degli iscritti, vi ringrazio per tutti i vostri complimenti, un minuto che sono fra voi. Qua è ancora il crepuscolo, ma sta accadendo la note e quindi fra poco devo chiudere la casa. Vi ringrazio a tutte e tutti voi per seguire anche i miei video in Youtube, nel mio canale naturalmente San Ten Chan, ne ho fatti di nuovi, un cane che gioca con laser e io che faccio un tutorial di gastronomia a Cassareccia, quindi se vi interessa, mi raccomando, guardate i miei video e poi un momento. Grazie. 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 una sintesi molto tempo che che non trasmettevo e visto che visto che voi siete così gentili nel seguirmi non vi voglio lasciare soli comunque come dire vi ringrazio di tutti i complimenti che mi fate e io mi domando sempre chissà chi mi ascolta che fate a quest'ora e sì perché io penso a tutte e tutti voi che mi ascoltate sempre di più ormai non so saranno 5.000 o 4.000 volte che mi avete ascoltato i programmi molti dei quali ho dovuto cancellare perché non c'avevo più spazio io sono disoccupato e c'ho un account gratis allora così ne carico altri se volete cercare i miei episodi vecchi la maggior parte di quelli che valeva la pena conservare cioè quasi tutti modestamente li ho caricati nel mio canale di youtube sant'enchan quindi mi raccomando andate a guardare il mio canale di youtube sant'enchan e lì ci saranno tutti i miei programmi radio prima di cancellarli da sprecher li metto lì in youtube e io mi domando sempre dicevo chissà chi mi ascolta che sta facendo in questo momento perché qua sono le 19 e 17 ed è già buio ma in italia qua sta per venire la primavera ma adesso fanno 8 o 6 gradi con vento di tramontana ma lì forse ci sarà un'afa bestiale e 26 gradi non so è come parlare un telefono e non sapere chi ti sta ascoltando dall'altra parte un momento e 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 di nuovo fra di voi scusate e ho avuto da fare ho stesso la biancheria beh mi sembra che devo porre fine a questo tormentato programma perché adesso andrò a occupare momentaneamente servizi igienici e poi vado a cenare e quindi non vi lascio di ricordare che caricherò eh foto e forse video di tutorial gastronomico di questa mia cena che farò adesso ho caricato se non mi sbaglio della merenda e del pranzo di oggi beh come dire ho mandato altri comunicati a Travaglio dal mio canale San Ten Chan perché so che lui sta in Youtube ma non so se sta in Spreaker credo di no prossimamente farò un programma radio rispondendo a molte questioni e molte cose di di Travaglio che mi interessa molto quello che dice per quello vorrei continuare un dialogo con lui non so se avrà tempo di rispondermi credo di sì non so io sempre aspetto sue risposte beh vabbè se non mi scrive se non mi manda dei video blog e perché non avrà tempo lo so comunque comunque più presto gli mando un altro video in Youtube gli devo rispondere a degli argomenti poi io ascolto tutti i giorni il telegiornale della RAI e resto di stucco fra le cose che dicono quelle del PD e del PDL sono molto creative e allora io ho delle risposte anche creative da dare alla politica poi se voi avrete del tempo raccogliete delle firme e se sono più di 100.000 potrete iniziare a dar vita al movimento San Ten Chan e allora io ritornerò per assumerne la segreteria generale la segreteria nazionale generale vabbè io ho dei programmi per come recuperare il paese adesso sono i 19.34 e ho dei programmi invece di cosa mangiare e vi lascio a tutti devo anche lavare i piatti quindi avrò un doppio lavaggio di piatti di pranzo e cena mi raccomando state accorti ciao